Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi parliamo dei top low cost preferiti del periodo questo è un video che vi piace tantissimo perché io tra l'altro trovo che sia un video molto utile perché, come vi dico sempre, è molto soddisfacente trovare dei prodotti che costano poco e che comunque sono molto molto validi tra l'altro questi prodotti non sono dei nuovi acquisti sono comunque delle riscoperte dei prodotti che ho ricominciato ad utilizzare magari dopo una breve pausa e insomma ne voglio parlare insieme a voi e confrontarci anche su questo argomento e partiamo subito io partirei con il corpo non è un buon prodotto, è il prodotto per eccellenza allora qua parliamo veramente di un low cost pazzesco C&N Tools, quindi prodotto che riusciamo a reperire da Lidl e questo è proprio un classicone ed è il body butter al burro di karité e tonka allora, questo burro corpo che cosa non è? che cosa non è? è stupendo allora, aspettate che metto gli occhiali mi ero portato agli occhiali dove li ho messi? li ho dimenticati? aspettate un attimo che li vado a prendere allora, eccomi qua con gli occhiali a proposito di occhiali vorrei dire una cosa che tempo fa una ragazza mi ha scritto però che fastidio che metti e togli gli occhiali allora, questi occhiali sono per leggere e sono per leggere da vicino se io li lascio su e guardo il telefono io non vedo un tubo con questi occhiali e quindi è ovvio che io debba metterli e toglierli quindi per chi si sentirà infastidito da questo metti e togli, metti e togli io vi do il tempo di stoppare il video in maniera tale insomma, ve l'ho detto prima che io in questo video metterò e toglierò gli occhiali io veramente non è per fare polemica perché voi lo sapete sul mio canale, nei miei video non ci sono mai polemiche però c'è un limite a tutto veramente comunque, metto gli occhiali perché io poi quando guardo lì vedo tutto così cioè, perché questi occhiali sono fatti per leggere da vicino allora questo è un burro corpo alla fava di tonca e al burro di karité però poi non c'è scritto altro ok, quindi va bene molto molto semplice insomma, come vi avevo già detto allora, questo burro corpo è pazzesco innanzitutto allora, si presenta così vedete allora, innanzitutto bisogna utilizzarne poco perché effettivamente ha una consistenza molto molto burrosa e molto densa ha un profumo ma un profumo che è una cosa inebriante inebriante è buonissima questa profumazione si sente veramente moltissimo la tonca ma c'è anche proprio questo sentore di burro di karité coccoloso caldo mi piace tantissimo ma la particolarità di questo burro è proprio la consistenza e l'azione che ha sulla pelle quindi è fortissimamente nutriente perfetto per le zone secche certamente non è un prodotto che andrei ad utilizzare in estate quando fa tanto tanto caldo perché è veramente bello bello denso ma ancora in questo periodo in cui diciamo la pelle ne risente dell'umidità della temperatura fredda esterna è proprio una cosa meravigliosa quindi se lo trovate da Lidl è un prodotto che costa pochissimo siamo intorno ai 3 euro probabilmente ed è veramente validissimo io non entro nel merito ovviamente dell'Inci però se non avete particolari problemi io credo che questi della linea Network siano anche formulati abbastanza bene però dico in ogni caso se non vi preoccupate dell'Inci ed andate ad utilizzare comunque tutto e poi continuate ad utilizzare soprattutto tutto quello che su di voi funziona io ve lo stra stra consiglio altro prodotto sempre per il corpo è questo è una crema fantastica allora questo è un latte corpo della linea alla mandorla credo che si chiami mandorle dolci semplicemente di bottega verde allora questo è un latte corpo ovviamente una consistenza diversa rispetto al burro di carité di Sien perché è un latte corpo molto più leggero più setoso più facile da stendere quello è anche bello corposo e va massaggiato bene bene e questo è un latte corpo stupendo emoliente nutriente con olio e latte di mandorle dolci è indicato per pelli normali ma io oserei dire che è perfetto per tutti i tipi di pelle anche per chi ha problemi di pelle secca ed è per il 96% costituito da ingredienti di origine naturale selezionati non ci sono né parabeni né coloranti né edita né siliconi né oli minerali e quindi devo dire che insomma è anche formulato bene quindi siamo sicuri ma la cosa che mi fa impazzire di questo latte corpo che poi idrata bene molto emolliente addolcente insomma è perfetto l'odore l'odore è buonissimo è proprio il classico odore di mandorla che vado a cercare io è proprio mandorla amara è una profumazione spettacolare e vi dirò che ultimamente lo utilizzo in combo con il profumo alla mandorla ahimè discontinuato di erbolario la combinazione è perfetta quindi magari se avete ancora dei poveri resti di questo profumo di erbolario io vi consiglio di abbinarlo questa crema corpo che ovviamente da bottega verde potete trovare sempre in sconto super sconto e maxi sconto quindi c'è sempre l'opportunità di poterla acquistare ad un prezzo molto vantaggioso per quanto riguarda il viso la detersione del viso ho riacquistato tempo fa per l'ennesima volta io questo prodotto lo utilizzo ormai da anni sempre di Sien con l'acqua rich daily scusate perché non vedo un tubo l'acqua rich daily mild face watch per appunto la pulizia del viso questo è per pelli normali e per pelli grasse però devo dire che sulla mia pelle questo prodotto funziona benissimo nel senso che non irrita non mi crea rossori non lo utilizzo per struccarmi assolutamente lo utilizzo la mattina quando sono già struccata per la detersione del viso per andare ad eliminare tutti i vari residui eventuali di trucco o magari dei trattamenti delle creme con tornocchi che ho utilizzato la sera precedente mi piace tanto dà una sensazione proprio di freschezza il viso appare bello pulito e deterso quindi questo è un prodotto che acquisto e riacquisto sempre ed è uno tra i detergenti low cost secondo me migliori che io utilizzi è veramente un ottimo ottimo prodotto altro prodotto corpo sempre per quanto riguarda le creme corpo qui andiamo proprio su un low cost super 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 low cost e sto parlando di dermomed della linea olio di argan la crema fluida corpo per pelle liscia e nutrita se vogliamo parlare di profumazione paradisiaca qui veramente si fermano gli orologi allora la crema fluida corpo olio di argan nutre e idrata la tua pelle in profondità lasciando ad un piacevole effetto sedificante grazie alla presenza dell'olio di argan aiuta a rinforzare la barriera cutanea e contrasta l'eccesso dei radicali liberi l'olio di germe di grano arricchito con vitamina E unito alle proprietà emollienti dell'olio di mandorle dolci aiuta a prevenire smagliature ed irritazioni ora per quanto riguarda questo io non lo so so solo che è una crema fantastica e con una profumazione semplicemente paradisiaca se vi piacciono queste profumazioni molto talcate molto delicate quasi cipriate io vi straconsiglio questa crema corpo che è la fine del mondo a parte che sedifica tantissimo è molto molto leggera questa soprattutto è perfetta per la stagione estiva soprattutto quando andiamo a sudare tanto e quindi magari le creme corpo troppo grasse insomma non sono il massimo questo prodotto è stratosferico tra l'altro lo potete trovare ovunque perché si trova facilmente nella grande distribuzione per quanto riguarda i capelli ho riscoperto tra i miei tanti prodotti questa meraviglia di Revlon allora si chiama Unique One tanto ve lo faccio vedere si chiama Unique One ed è un prodotto che potete tranquillamente reperire online su Amazon su Makui Beauty Makiai insomma giù di lì io devo essere sincera l'ho visto anche al centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro quindi per chi è di quelle zone c'è una parrucchiere tipo quei parrucchieri Jean-Louis Davie ecco quei gruppi di parrucchieri dove avete questo trovate questo prodotto anche nell'altra versione quello nella boccetta rossa allora questo in particolare si chiama Coconut Hair Trattament e ha 10 benefici allora cosa fa questo prodotto è un trattamento per i capelli che profuma il cocco e ha diverse funzioni che è quella di riparare i capelli secchi e danneggiati di togliere l'effetto crespo di proteggere dal calore di proteggere il colore sui capelli colorati renderli districabili lucidarli profumarli io lo adoro follemente allora questo è uno spray si presenta tipo un siero latteo che sa appunto di cocco e che ha tutte queste funzioni io lo spruzzo sia sui capelli umidi che anche sui capelli asciutti semplicemente sulle punte per rendere un po' più lucido il capello magari definire un po' di più il riccio perché va benissimo sia sui capelli lisci che sui capelli ricci e soprattutto li profuma tremendamente di cocco ed è un prodotto che a me piace moltissimo altro prodotto del quale vi avevo parlato e che ho nuovamente cominciato ad utilizzare pensando diciamo alla primavera che non lo so se arriverà è questo prodotto dell'erboristica mi rendo conto che senza occhiali davvero non vedo un tubo dell'erboristica questo è uno spray idratante un'acqua naturale di cocco e aloe vera biologica rinfrescante e lenitiva ed è questo prodotto qui che io trovo al tulipano al tigotà da sirene blu iper soap insomma lo potete trovare un po' ovunque è di facile reperibilità allora questo è uno spray idratante vi dicevo con acqua di cocco ed aloe vera ed è un idratante per il viso per il corpo e per i capelli quindi lo potete spruzzare anche sui capelli per deodorarli visto che spesso mi chiedete di consigliarvi dei profumi per capelli è privo di alcol ovviamente per questo si può utilizzare sui capelli ed è delicatamente profumato al cocco abbina abbina la straordinaria azione rinfrescante dell'acqua di cocco alle proprietà idratanti e lenitive del succo puro di aloe vera biologico ovviamente ideale quando la pelle necessita di idratazione adatto in ogni stagione ed è perfetto per idratare il viso durante la giornata io utilizzo questo spray come tonico quindi dopo aver deterso il viso lo utilizzo come step finale dopo essermi truccata quindi come fissante perché funziona e in estate ovviamente sarà un prodotto perfetto da utilizzare proprio per rinfrescare il corpo e come vi dicevo anche sui capelli è un prodotto per il 99% con ingredienti di origine naturale è un prodotto vegan e insomma questo ve lo straconsiglio tra l'altro appunto un prodotto low cost adesso passerei al make up allora io sto utilizzando ultimamente l'ho riscoperta nel mio cassetto dei trucchi vedrete una confezione oscena la fit me matte and poreless di maybelline questa cipria stupenda che io adoro perché è una cipria che può essere tranquillamente utilizzata se non avete particolari imperfezioni da coprire cicatrici magari macchie dovute all'acne e così via quindi necessitate di una coprenza diciamo un po' più elevata questa cipria è fantastica perché è una cipria che potete tranquillamente utilizzare proprio al posto del fondo io stamattina mi sono truccata utilizzando soltanto lei certo voi sapete io non sono una che fa delle basi belle cariche quindi per me una cipria va più che bene ma mi piace perché è molto sottile quindi non comunque dà questo effetto troppo cipriato troppo talcato al viso ma ha anche un finish leggermente satinato quindi mi piace moltissimo l'effetto che dà la mia pelle devo dire che durante l'arco della giornata il trucco rimane perfetto quindi è una cipria che va anche a minimizzare qui la presenza proprio dei pori che io ho concentrati per la maggior parte qui e sulla zona del mento va a dopacizzare può essere riapplicata durante l'arco della giornata senza rischiare insomma di rovinare il make up è un prodotto che si trova spesso in offerta e ve lo straconsiglio quindi la linea è la fit me di maybelline la matte and poreless fantastica per quanto riguarda i blush ho riscoperto questo super low cost meraviglioso è un prodotto di shaka ed è un blush e questa è la confezione di questo io forse ve lo avevo in un vecchio video proposto è il numero 12 biscuit ed è un colore stupendo perché è un color biscotto bellissimo che si adatta a tutte le carnagioni a tutti i tipi di make up è molto molto carino come blush guardate è un color biscotto pescato stupendo molto molto naturale devo dire che dà un effetto proprio vedete di naturalezza all'incarnato di gote sane ed è un blush matte ma dal finish poi una volta che lo andiamo ad applicare è leggermente satinato che si sfuma benissimo e dà un bellissimo effetto al viso tra l'altro è uno dei colori che amo di più perfetto sia per l'inverno che per l'estate fantastico shaka lo potete trovare online su macchiaia da da OVS insomma non è difficile da reperire mentre per quanto riguarda gli occhi le palette che vorrei consigliarvi allora questa in assoluto la sto utilizzando tantissimo ed è la palette che ho usato oggi per realizzare questo make up è una palette di revolution ed è la soft x ultra eyeshadow sono 24 24 ombretti allora queste palette sono fantastiche parliamo di palette che stanno intorno ai 10 12 euro proprio quando stiamo proprio sul caro 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 e questa è la palette in questione una magnifica palette con una infinità di colori per la realizzazione veramente di non so quanti quanti look abbiamo sia cialde satinate sia cialde ultra shimmer che cialde opache ci sono tutti i colori compreso un nero quindi per poter realizzare smokey ice sul marrone sul nero e poi abbiamo i vari colori ambrati dorati insomma è una palette molto versatile qui abbiamo magari i colori un po' più particolari questo viola questo bel verdone credo che sia una palette davvero molto molto versatile io adesso vi farò anche qualche swatch in maniera tale che possiate capire più nello specifico di che tipo di prodotto stiamo parlando e della pigmentazione ovviamente degli ombretti guardate questo duo chrome che cos'è tipo il club di MAC sono dei colori davvero bellissimi vi faccio vedere anche questo viola pazzesco che è stupendo ve lo swatcho qui parliamo veramente di una palette molto molto performante salviettine per pulirmi con ombretti davvero molto scriventi facilmente come dire sfumabili che hanno una bella durata sulla palpebra e appunto il fatto che siano delle palette così low cost insomma rende tutto il tutto molto 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 interessante quindi se riuscite a trovarla anche i prodotti di revolution li trovate o da ovs o direttamente online sul sito di maquillaya o sullo stesso sito appunto di revolution poi volevo parlare di rossetti allora argomento rossetti che poi anche quello che vi piace particolarmente allora sempre di wet and wild volevo citarvi questo rossetto del quale io spero di riuscire a leggere il colore perché come sempre allora la linea è quella nuova questa in bianco perché sono quelli brillanti non sono i mega last quelli quelli matt allora questo rossetto è un eye shine brilliance e il colore si chiama rose and sly che bello con gli occhiali perché riesco a vedere ed è questo meraviglioso rossetto questo ecco rosa malva bellissimo semplicemente bellissimo e vi dirò che non perché fa parte di questa versione così brillante shine questo rossetto sulle labbra è pazzesco perché si fissa totalmente e ha una bellissima resa sulle labbra poi è morbido è proprio confortevole idratante va a idratare le labbra ed è un colore bellissimo per la primavera secondo me abbandonerò certamente i rossetti matt anche se li ho abbandonati da un po' devo dire ne uso pochi ma che abbiano magari una resa sulle labbra che sia poco asciutta e questo è un colore stupendo e poi sempre di wet and wild però questi sono ancora un'altra versione perché sono quelli perlati quelli un po' frost e questo in particolare si chiama dark pink frost e vedete sono fatti così con questo packaging insomma che è un po' un po' così ed è questo rosa così frost diciamo stupendo che una volta applicato mi ricorda orgasm di nars allora speriamo ecco vedete perché la luce l'ho ecco questo è il colore è stupendo tra il rosa e l'arancio ha queste pagliuzze così dorate e sulle labbra ha un effetto vi dico stupendo perché le labbra appaiono belle lucide un po' duo chrome quindi se vi piace questo effetto poi tra l'altro lo potete anche applicare magari su un rossetto matte giusto al centro delle labbra per dare così una zona di luce se non vi piace l'effetto glossato e questo rossetto è pazzesco oppure potete contornare le labbra con una matita riempirle con una matita e poi picchiettare questo colore è bellissimo a me personalmente piace utilizzarlo su tutte le labbra magari quando sono truccata poco voglio dare un po' di colore alle labbra e lo trovo veramente fantastico quindi vi ripeto il colore che si chiama dark pink frost giuro che è scritto talmente piccolo che se non avessi avuto gli occhiali cioè non avrei visto proprio una mazza altra meraviglia che è poi quello che ho su oggi che è stupendo un rossetto pazzesco è questo rossetto di Deborah Milano dei matt ed è il numero 17 quelli fatti così che si conciano veramente diventano tutti appiccicosi il packaging veramente osceno il rossetto è questo ed è semplicemente meraviglioso è un nude rosato color cappuccino bellissimo stupendo che è appunto quello che ho su lo vedete un po' più scuretto perché io ho messo su una matita ma questa è la meraviglia di colore è un nude bellissimo che secondo me sta bene a tutte e a tutti ed è stupendo abbinato oddio mi sono accorta di avere il rossetto sui denti vabbè pazienza ed è bellissimo se abbinato ad una matita magari che va a fare un po' di contrasto la sfumiamo con il rossetto e l'effetto devo dire che è stupendo quindi il numero 17 dei matt di Deborah Milano che tra l'altro tutto è trattene con matt nel senso l'effetto sulle labbra è matt ma è morbidissimo è super cremoso io direi che è più un rossetto cremoso dall'effetto vellutato che non si asciuga non secca le labbra quindi è molto molto delicato confortevole sulle labbra e il colore secondo me è pazzesco ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è questo lip gloss di Astra il My Gloss Plump and Shine allora questo è questo è il packaging di questi rossetti di Astra bellissimi questo è il numero 06 che non ha un nome ma semplicemente il numero 06 ed è questo color marroncino rosato no parliamone guardate la meraviglia di questi rossetti sono super super pigmentati bellissimi vibranti hanno un effetto stupendo sulle labbra costano pochissimo hanno una profumazione di vaniglia sensazionale e danno proprio questo effetto di labbra rimpolpate proprio perché appunto parliamo di gloss sono molto confortevoli sulle labbra non sono appiccicosi danno questo bellissimo effetto lucido devo dire che hanno anche un'ottima durata ci sono tantissime colorazioni ed è un low cost secondo me validissimo visto che in commercio di questi rossetti ce ne sono tanti anche blasonati costano un botto poi sulle labbra insomma la durata è quella che è quindi visto che anche questo non è che dura un'eternità è un buon prodotto con un bellissimo effetto sulle labbra la performance è identica a quelli che costano un po' di più quindi tanto vale acquistare una cosa del genere che costa meno e ci soddisfa appieno e ora dopo i rossetti che vi ho detto argomento che amate tantissimo arriva l'argomento super super amato cioè parliamo dei profumi low cost che sto apprezzando tantissimo in questo periodo allora il primo è vi dico una cosa io avevo acquistato questo profumo mi era piaciuto e poi non so perché lo avevo accantonato in mezzo a tutti i profumi che possiedo ultimamente l'ho utilizzato ed è nato un amore pazzesco questo profumo è il mio profumo è uno tra i pochi profumi per cui io possa dire è il mio profumo allora innanzitutto vi dico che è un profumo nuovissimo uscito nel 2019 di Zara si chiama Fleur de Paciuli ed è un profumo che ha creato John Malone per Zara allora non vi aspettate un profumo di quei profumoni insomma bomba che hanno queste durate pazzesche anche se vi dico che su di me questo profumo dura una giornata intera io l'ho indossato ieri e stanotte io lo sentivo sul pigiama ma io non l'ho spruzzato sul pigiama quindi lo sentivo anche stamattina probabilmente sulla mia pelle ha una buona buona resa allora questo è un profumo un floreale freschissimo con note di peonia paciuli e legni è un profumo molto fresco che ricorda le acque di colonia è un profumo quasi acquatico senza avere assolutamente note saline note marine però sento la leggerezza proprio dell'acqua in questo profumo è un profumo erbaceo molto come dire frizzantino un profumo perfetto per la stagione estiva non invadente che può essere spruzzato più e più volte durante l'arco della giornata può essere indossato in tutti i contesti in qualunque tipo di occasione molto femminile delicato è sobrio è un profumo che nasconde una timidezza ma allo stesso tempo è un profumo che proprio fa sentire a posto dà quella sensazione proprio di ordine di pulizia quindi un profumo dall'anima molto trasparente molto leggera quindi niente di eccessivo e di eclatante quindi se siete delle amanti del paciuli ma un paciuli molto leggero molto fresco primaverile un po' così biricchino questo è un profumo che mi sento assolutamente di strastra consigliarvi un low cost davvero molto molto carino ben riuscito io lo adoro follemente lo indosso anche stamattina è nato un amore questo è il mio profumo veramente il mio profumo è un profumo fantastico quindi se vi capita di andare da Zara tra l'altro sono tutti in una confezione bellissima c'è proprio una scatola bianca che li contiene la scatola può essere riutilizzata ed è veramente lo adoro lo adoro mi sono innamorata è nato un amore altro profumo stupendo che ho acquistato però veramente da pochissimo ma ve ne voglio parlare perché me ne sono innamorata tra l'altro l'ho desiderato veramente tanto ma qui da me di rivenditori apiarium proprio non esistono anzi se qualcuna di voi o qualcuno di voi sa che nella zona del Pordenonese Conegliano insomma Friuli Veneto però all'interno di questo raggio tra Pordenone Conegliano sì questi sono i luoghi in cui mi potrei spingere se sapete chi rivende apiarium insomma se me lo fate sapere perché io questo l'ho trovato a Trieste perché sono andata a Trieste per fare delle cose mie e ho trovato questa bioprofumeria che tra l'altro aveva di tutto e mi sono trattenuta mi sono trattenuta ho preso solo il profumo sto parlando di vaniglia e mandorla di apiarium finalmente è mio questo profumo allora questo è un profumo innanzitutto con ingredienti naturali un profumo biologico quindi ci sono ingredienti che sono selezionati e ricercati ed è uno de toilette devo dire che non mi dispiace la persistenza assolutamente non mi aspettavo chissà che cosa quindi ero preparata ad un profumo molto delicato con una persistenza discreta e la cosa non mi dispiace è un profumo con note di fiori d'arancio vaniglia e mandorla l'unica cosa che mi è dispiaciuta è che su di me io questa mandorla sinceramente non la percepisco trovo questo equilibrio meraviglioso elegante e zuccherino e leggero gradevolissimo per quanto mi riguarda tra i fiori d'arancio e la vaniglia quindi una vaniglia grumata una vaniglia leggera che mantiene sempre la sua caratteristica goduriosa appetitosa quindi comunque un profumo gourmand peccato che io non avverta queste note di di mandorla che tante mi dicono sul fondo riescono a percepire e che poi si assesta tra questo equilibrio tra la vaniglia e la mandorla su di me l'equilibrio io lo sento tra i fiori di arancio e la vaniglia ma non mi dispiace quindi è una vaniglia fresca una vaniglia agrumata una vaniglia alleggerita secondo me è una vaniglia perfetta anche per chi non ama la vaniglia ed è un profumo da tutti i giorni un profumo versatilissimo anche questo per tutte le occasioni e tutti i contesti nulla di soffocante nulla che potrebbe infastidire la persona che abbiamo accanto ed è un profumo molto carino gradevole che non preannuncia chissà quali quali intenzioni ecco è un profumo molto discreto elegante romantico quindi per una donna che vuole profumarsi senza dover necessariamente né lanciare messaggi né dover necessariamente preannunciare il suo avviso il suo arrivo insomma prima che arrivi perché perché si va a sentire prima il profumo della nostra presenza madonna mia mi sono incartato cioè non arriva il profumo prima di noi ecco questo è un classico profumo discreto che ci accompagna durante le attività della nostra giornata senza prevaricare questo è quello che volevo dire quindi anche questo straconsigliato io l'ho pagato questo è un formato da 50 ml mi pare non vorrei dire una sciocchezza no è un 100 ml e aspettate che mi metto gli occhiali perché certe volte le boccettine mi ingannano allora questo è un formato da 100 ml basta mettere gli occhiali e il mondo diventa meraviglioso e un formato da 100 ml l'ho pagato 18 euro è 90 quindi neanche tantissimo quindi stra stra amato quindi io stavolta ho finito vi ringrazio come vi dico sempre spero che il video innanzitutto vi abbia tenuto compagnia vi abbia fatto distrarre dai pensieri da un momento particolare della vita 20 minuti non so quanto è durato e spero insomma che vi sia stato utile in qualche modo o che vi sia piaciuto e ovviamente come sempre se vi va aspetto i vostri commenti in cui mi fate sapere quali sono i vostri prodotti preferiti soprattutto i profumi low cost io vi ringrazio come sempre vi mando tanti baci se vi va ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao